Si chiude senza colpi a sorpresa il mercato del Rimini. Saltato Ciurria e Biancorossi completano l'organico a disposizione di Mr. Pane con quattro giovani di belle speranze che vanno comunque ad integrarsi in un gruppo più che mai competitivo per la categoria. Le ultime mosse del direttore sportivo Pastore portano all'ombra dell'arco d'Augusto l'esterno sinistro difensivo romeno Vladut Nicolae Marin, 20 anni, con la formula del prestito dalla Juventus. Da Napoli arriva sempre in prestito il centrocampista Giuseppe Fornito, 21 anni, nell'ultima stagione al Cosenza, 28 presenze e un gol. Poi tre giovanissimi dalla Vigorina Senigallia, si tratta di Giacomo Pierfederici, Kevin Grest e Pietro Giobellina, tutti e tre classe 99. Il Rimini di fatto il suo mercato l'aveva già chiuso da un paio di settimane con due colpi da 90 per la Lega Pro. Luigi della Rocca, scuola Bologna, grande esperienza in terza serie dove ha giocato a Portogruaro, Carpi, Cremonese, Lecce e Novara, una pedina fondamentale nell'attacco biancorosso. E Daniele Ragazzo, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, 32 partite in Serie A con la maglia dei Sardi, 61 in cadetteria con le casacche di Provercelli, Gubbio e Virtus Lanciano. I cugini del Sant'Arcangelo chiudono il mercato estivo con due quisti in eccessione. Scartata l'ipotesi del ritorno di Obenga, centrocampo arriva dal Cesena con la formula del prestito il centrale Tommaso Arrigoni. In attacco torna Alessandro De Respinis, lascia invece la formazione clementina al centrocampista Omar Touré che andrà a rinforzare la primavera della Juventus.